Aia! Aia! Piso 2, te lo ricordi sta mostra? No! Salve a tutti ragazzi e benvenuto a un nuovo video sul canale di Joker e PS2. Faremo una partita prima insieme e poi contro, che se tu vorrebbe fare una Royal Rumble, però non sa che cosa al commentare che sia. Ah, vuoi fare subito contro? Sì. Ok. Nessun profilo. E ora ci carica profilo. Ovviamente io non faccio i miei personaggi, lo faccio io. Ah no, non male. Già tu cominciai a amparare. E fare... Ehi tre. No, è vero, è proprio vero, come lo faccio dai giri? Non tu fai dai giri, fai dai giri. Vai, giù. Ragazzi, sono tutti quelli sblocati, uno che ho bloccato e chissi. Sai perché? Perché si può sbloccare solo tramite l'edizione PSP. Ma vabbè fare in culo. Eh, proprio Jake the Snake. Che faccia schifosa PS2. Beh, siccome sono un choker... Infatti siamo ora contro SmackDown, l'arena scegliela tu. Squalifica sì o no? Ma certamente che no. L'entrata dobbiamo farla vedere. Ovvio. L'entrata sì. L'entrata sì. Cioè, a me l'episodio proprio non lo comprendo. Ecco la mia nuova entrata. E mi dico che quando lo amo. Ma che cazzo è? Joker Pro Game. Ehi, c'è Pro Game. Non è in G-Style, sei andato di Randy Orton. No, è in G-Pro Game. Ehi, nothing you can say. Questa è la musica di Randy Orton, Burning My Light. Bellissimo questa musica. Bello e bello. E infatti non c'è neanche il mio Titan Drone. E' bello. Ehi, assaporatemi. Sono come la ciliesa. Senti, che? Guarda. Guarda. Me la sento. Smash, oh, tu sei la volante. Anche in questo gioco... Gioco fastidio. No, mi sono fatto la ter di Elias. Anche qua. In questo gioco? La tire, il vestito di Elias. Cioè, sono solo jeans con i braccialetti. No, scusami, con i guanti di Eddie. E poi, quindi, erano anche nel passato. Io sono fenomeno. Ed ecco l'entrata del truzzo PS2. Non entra con la truzzo mobile. Non entra con la truzzo mobile. L'icona dei Fazio. PS2, un zingaro forever. Il ritorno. Anzi, il ritorno. Guarda, mi è pieno. E' lupo. Che è scostumato con le mutande di cuore. Guardate che schifo. Ma non ti fai schifo entrare con le mutande? Ma va, anche il picciono. Basta lo va. Ma lo sapete che l'ho già visto questo personaggio? Ti ho, ci sto parlando davanti. Vabbè. Minuto. A parte che lo devo updateare. A parte che mi ho messo l'entrata di una fenne a un cantaio. Non ce l'ho messa quello con l'entrata. E' quella predefinita. E' passi valgato. E' perché c'è il tappeto a cosa. E' poi perché non hai baffi e pizzetti. E' perché va all'epoca e ragione. Appunto. Era ancora un bimbo. Era ancora un PS2. Ora non sono diventato un bimbo reno. No, no, no. E' PS2. Da me pare che non mi ricordo i comandi. Allora, i comandi sono apri la custodia dei attivi. Ma perché non fa niente. Da l'invento i comandi. Ottimo. Inventati che con triangolo colpisce. E con X lo gisce. Esattamente. E con gerchio? Ah. E con quadrato? Pisce. Ottimo. Due volte pisce. No. Il vigore. Cos'è il vigore? Il vigore è quella situazione brutta che ti fai quando la mattina ti alza. No, è quando il PS2 pensa alle femmine. Il vigore. Io ne penso solamente una. Esattamente. Infatti a quello mi riferivo. E te è mia nonna? Allora, facciamo lo sfale down come siamo. No, facciamo. Devi prendere il pulsante, non lo vedo giusto. Eh, non lo sai. Oh, eh. Ah, ma io si mi può notare. Oh, è che caldo. Ma io perlucione di dance. Meglio. Ma io perlucione di dance. Prova. E' un buonio. Ma io mi prendo la mia nonna nella tua. E' qualcosa che non mi può notare. Ti aiuto io, dai. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ti aiuto, dai. Sai che ti aiuto. Vedi che ti aiuto. Che stai facendo questo? Ma che cazzo? Ma non mi funziona. Prova a premere forte. E poi c'è un scherzo. Eh, vai. Continuo. Vai, vedi se è contrattata. Vedi che è contrattata. Prova a farsi una presa. Ti faccio una presa. Prova a farsi una presa. Aspetta. Bello che mi dice. Aiutami. Prova a contrattare la presa. No, perché le guarda, guarda. Che cazzo? Ah, guarda che le mosse viene modificate. L'ho fatto più che potente. Guarda. Guarda. No, no. Devi fare un momento giusto. Ma non mi funziona la roba. No, comunque. Oddio, tantissimo. Oh. Sì. Ci siamo autoconfitti con il demoramento. Aiuto l'arbitro. Aiuto l'arbitro. Eh, aiuto l'arbitro. Aiuto, pizzo 2. Gioca in guantea mia. Vai, tranquillo. Guarda che faccio all'arbitro. Ah, stai mi s'occupando della gamba dell'arbitro. Un attimo. Oh, bigfoot. Ma che cazzo stai facendo? Non lo capisco a pizzo di lui io. Ah, non lo capisco a me che cazzo stai facendo la gamba dell'arbitro. No, non lo capisco a me che cazzo stai facendo la gamba dell'arbitro. Eh, bello prende. Mi sono rotto una clavicola, ma nientanto. Eh, sì, di meglio. Non lo capisco a me. Non lo respiro. Non lo respiro. Ce ne stiamo picchiando più l'arbitro. Ci stai prendo un cazzo. Ahia. Basta con questi cacci da verso. Oh, che buono. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No. Ah, bella con il cazzo. No, 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 no. Raiya. E' una mappa. Vai. aspetta che hai usato solo l'abitro aia aia ps2 te lo ricordi sta no? adesso te lo ricordi io non capisco non puoi contrastare la mera questa è la presa eh ps2 nei giorni al momento giusto a me non mi bruciano prossimo che vedo l'arbitro non puoi picchiare questo non ce l'apprezzato anche io ma sono in armi si ma fanno... mi sono detto giusto perché mi è partito che cazzo sei domani guardate che cosa mi occupò dell'arbitro ah che guardate me lo lo prendo con l'arbitro Eeeh! Nooo! Si va parlo, parlo! Ah, non ho mai fissuto due! è mia se permetti perché sono sparito? non lo so questa sconciata mi trovasse in vita non lo so se tu stai sento con questo calcio ma ben caro No, porca sozza! Ma senti la punza, Pse2, non mi sono lavato. Mi hanno messo, che paura. Sto dicendo, ma perché te la fai di collare? Dai che ti aiuto, Pse2. Ah, ti magari sto occupando dell'arbitro. Ma sento sombra che secondo super stampa che si guarda nel regio. E che ragazze! 3 6 6 7 8 8 8 9 10 12 12 13 14 15 15 16 16 17 15 15 15 15 15 16 16 15 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 16 15 guardate mi sono diventato il doppio picchiere non vedo che è il pisso 2 vai il pisso 2 vieni che ti finisco ma il cazzozza non non basta ma aspetta non è finita arbitro e vince Joker per la seconda volta detto questo il video può finire qui dai vostri amatissimi ah vuoi sottolineare qualcuno? hai qualche opinione a caldo sulla mia vittoria? come sempre non so quante volte l'ho battuto nei giochi pro gamer spero che il video vi sia piaciuto tantirai che commenti iscrivetevi al canale seguiteci pure su ps2 instagram e anche su pericolo no scherzo su instagram e ps2 lo vedo molto frustato ah si speriamo che ti batteremo con la prossima volta con la nuova sconfitta di PS2 Forever non so quante volte ho vinto di Joker pro gamer e poi la street finirà non finirà mai quella di Undertaker è finita la mia no ok quando finirà rimarrò scioccato le vostre amatissime mi punto il mio dito per dire patta croce le vostre amatissime PS2 è il Joker pro gamer che vince gli stritola la mano direi che è tutto concludo ciao ciao sono questo tutto il canale e arrivederci e grazie per aver visto la nuova sconfitta di PS2 inizia a fare la nuova sconfitta di PS2